Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Salve gente, ben ritrovati in questo nuovo video di Brawl Stars. È da un po' di giorni che non carico video, ben tre giorni, per motivi delle vacanze principalmente, quindi non vi preoccupate, non è morto il mio canale, anzi sta andando benissimo, vi ringrazio per tutto il supporto, siamo a 6.300 iscritti praticamente ed è un grande risultato, continuate a supportarmi mi raccomando e io continuerò a caricare video per voi. È un periodo un po' di stallo del mio canale perché Among Us è in vacanza, Boom Beach è in fase di sviluppo e anche comunque Brawl Stars sta avendo il suo periodo, diciamo no. Nonostante questo, l'altro giorno è uscita nel negozio una skin molto interessante di Brock, una skin beta, ricorda molto una skin della beta di Brawl Stars dove era presente appunto Brock e sono andato a riscuoterla e in questo video andremo a provarla assieme perché non l'ho mai provata. Vi lascio nel mentre la clip in cui sblocco questa skin. Eccola qua la nostra skin, si chiama Brock Vecchia Scuola, skin gratuita, riscuotibile il 24 dicembre, tredicesimo giorno del Brawly Days, quindi era una skin esclusiva. Nel mentre andiamo anche a riscuotere il nostro doppio gettoni e la seconda star power di Surge, ipotermia, che si va ad aggiungere alla mia collezione. Ok, quindi siamo riusciti a sbloccare la skin, come avete visto è molto carina l'animazione, è molto molto bella, ma non siamo qua per questo, anzi siamo qua per andare a controllare e a provarla effettivamente assieme. Andiamo magari a provarla su Brawlodrome, mi viene in mente. Quindi andiamo a selezionare il nostro bel Brock che dovrebbe stare intorno alle 700 coppe, se non erro, eccolo qua. Io ho tre skin di Brock, abbiamo quella base, abbiamo questa qua della beta, quella che ho appena sbloccato e poi questa qua, il Super Ranger. Prima di tutto andiamo a provarla un attimo nel campo di prova, tanto per chillarla due secondi, nel mentre vi dico, guardiamo anche com'è il restyle tutto. Allora i colpi mi sembrano parzialmente identici, adesso non ricordo precisamente come spara il Brock quello base, guardiamo la Ultis è sempre la stessa. Mi sembra tutto molto molto identico, speravo in qualcosa di più innovativo, però è giusto anche così perché effettivamente non ci poteva essere grande innovazione. Sono curioso di sapere una cosa, com'è la skin di Brock quella principale, perché purtroppo non mi ricordo come erano i razzi. Fatemi vedere se io sparo. Ok, è totalmente uguale a questa skin qua, invece, per un attimo per fare la prova finale, il Super Ranger Brock dovrebbe avere i colpi modificati, se non ricordo male. Quindi diciamo che tra tutte le skin che erano possibili di ottenere, semplicemente shoppando i pass, forse il Super Ranger Brock merita qualcosina di più. Devo dire che per i colpi ci stanno, guardiamo la Ulti con me che era un po' che non provo Brock. Sì, dai, ci sta, ci sta, ho visto anche cose peggiori, ci può stare. No, mi piace, mi piace, dai, sono parzialmente contento di questa skin, ma oggi siamo qua appunto per andare a provare questa skin, che è molto più importante. Quindi direi di andarla a selezionare, perché almeno ce la selezioniamo. Eccola qua, come vedete, bella fresca. Nel mentre ci invita questo qua, magari andiamo a farci qualche partita con lui, anzi no, meglio di no, perché stanno facendo rapina e non è attualmente il momento, ecco. Andiamo in Brawlodrome, questa nuova mappa che non ho mai provato, sinceramente, e andiamo a vedere come ce la gestiamo con questo nuovo Brock, molto molto carino. Allora, innanzitutto speriamo sulla lane, cerchiamo di tenere la lane il più possibile. Non so sinceramente come giocarmela, perché potenzialmente io potrei fare una cosa del genere, gli ho aperto, diciamo, il Varco, in teoria dovrebbe riuscire a piazzarla, molto molto semplicemente. Ok, prima partita del giorno, in stem-up, anche prima partita in generale, dato che non sto giocando molto, penso di fare un Brawler al 1000 in Showdown, tanto per mia soddisfazione personale, puramente mia soddisfazione personale, e quindi niente, forse molto probabilmente vedrete un montaggio di un rank 30 in Showdown, anche se non so effettivamente se lo farò. Ho detto questo, io direi di andare a fare così, perché sennò ci fa troppi danni. Guardiamo se ci dà fastidio, io faccio così, in teoria ho rotto quello, poteva piazzarla meglio, io rompo il muro là. Non c'era neanche bisogno, ottimo gol da parte del nostro compagno, ma non ci fermiamo qua. Dato che la prima partita è andata a buon fine, io direi di contiguardine a fare un'altra, visto che la skin porta effettivamente fortuna. Io non so se sia fortuna o bravura, ma questo qua naturalmente è tutto da vedere, ragazzuoli, tutto da vedere. Abbiamo un dynamite e una rosa, diciamo che la comp potrebbe anche workare, io devo soltanto capire come... Ecco, gufata classica del signor Vapor appena fatta, ottimo ragazzi, ottimissimo. Come trovare un intero game, complimenti, complimenti signor Vapor, complimenti. Allora, innanzitutto qua c'è un problema di fondo perché dobbiamo assolutamente cacciar via questa bombetta schifosa. Detto questo, qua è brutta roba, brutta storia, brutta storia ragazzi. Mi sa che il più otto che abbiamo fatto prima si trasforma in un magnifico meno otto, anche se io forse me la sono rischiata un po' troppo, dovevo fare qualcosa di meno. Per non prendere gol ci può stare, ecco. Forse qua potremmo fare anche danno a zona, forse, naturalmente. Se Mino mette il muro lo capisco, giusta la scelta. Appena si rompe il muro provo a sparare un po' di colpicini là, guardiamo se riesco a fare qualche tiraccio lì. Niente di che, ecco. Anzi, proprio laserata come piaceva a me l'ho presa. E penso che il nostro compagno non possa fare assolutamente niente, a meno che proprio non faccia il miracolo che dici, boh, eh, niente. E niente ragazzi. Proprio così pulito questo, questo meno otto che è in arrivo. Questa screen ha una fortuna molto bassa, dura una partita sola se vi interessa. Quindi, diciamo che, ecco, complimenti alla nostra rosa che devo dire che ha usato quello scudo in modo egregio, egregio direi. Ok, ottima roba da parte mia. Parata, non ci facciamo prendere dal panico. Stiamo giù, evitiamo colpi. Saliamo su pian piano. Ci verranno scagliati i colpi da tutte le parti, ma non è questo il problema. Ok, ci stava, mi aspettavo anch'io la giampata. Rottura dei muri più che giusta, perché se no non potevo fare assolutamente niente. Ecco, questi due colpi che mi sono preso di semino potevo anche non prendermeli, ammetto. Mamma mia che scarsi che sono i miei compagni. Purtroppo, ragazzi, sono veramente scarsi. Io non è che posso fare proprio i miracoli che dici, eh, effettivamente, non è che potevo fare un granché. Bene, detto questo, io spero che naturalmente il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo di lasciare un pollicione all'insù se volete supportare il canale, che è fondamentale. Se volete altri video del genere, o comunque sempre qua sul mio canale, magari in modo alterno, non vi assicuro di portarne sempre uno tutti i giorni in queste vacanze, perché il materiale, diciamo, che manca. Manca proprio la materia prima su cui portarvi video. Proverò a fare una scalata per le 31.000 coppe e molto probabilmente vedrete questa Bea Rank 30, ma non ne sono per niente sicuro. Detto questo, io vi ricordo, lasciate like, condividete il video con i vostri amici. Ci vediamo domani qua, sul mio canale, alle ore 14. Bella gente. Grazie a tutti.